Martina Escher, San Giustino, Volley. Era la gara della continuità con Todi, poteva essere la terza vittoria consecutiva, poteva cambiare un po' la classifica. Che cosa è successo? Sì, sicuramente era una partita importante, ma come lo sono tutte. È successo soltanto che loro hanno giocato meglio di noi, con più convinzione, hanno portato a casa la partita. Noi abbiamo lottato i primi tre set, loro hanno giocato meglio di noi. Il quarto set, giustamente dopo aver perso uno o due vantaggi, siamo crollate definitivamente. Non è una giustificazione, però questo è quello che è successo. Che poi c'è da far conto anche con le squadre avversarie, che magari sulla carta possono sembrare del vostro livello, ma chiaramente questo è un campionato equilibratissimo. Gli equilibri si potrebbero spostare per un'azione di gioco? Sì, sì, sicuramente è un bel campionato, perché ci sono tante squadre forti, tante squadre allo stesso livello. Noi sicuramente abbiamo un'ottima squadra, abbiamo dei buoni elementi, tutti elementi affermati in questa categoria, in più l'innesto di Mirka Francia, che penso che è una giocatrice che non ha nessuno in B1. Quindi sappiamo che possiamo fare molto meglio di quello che stiamo facendo, solo che ancora non l'abbiamo messo in pratica. E vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto in questo caso. Siete una squadra estremamente forte, però qualche volta non riuscite ad esprimere, io credo, neanche il 70% delle vostre potenzialità. No, no, sicuramente no, io penso forse il 30%. Poi se parli, cioè personalmente penso che sto dando il 10%, quindi so che posso fare molto di più, ho voglia di giocare, ho voglia di allenarmi. Tutta la squadra stiamo provando a capire quali sono i problemi, cerchiamo di risolverli. È difficile rientrare in palestra dopo una sconfitta, però si deve cancellare subito, si va avanti. Già pensiamo alla prossima partita con Roma. Con Roma, chiaramente, classifica alla mano, è una gara da vincere da tre. Sì, sulla carta è più facile, però non bisogna sottovalutare nessuno, anche perché con noi giocano tutti non al 100%, ma al 200%, quindi non so perché, ma è così. Probabilmente perché nessuno ha nulla da perdere, per cui non dobbiamo sottovalutare, però sì, sulla carta. Sicuramente è più facile di quella della scorsa settimana e vogliamo andare a casa a Natale tutte tranquille, magari con sei punti in tasca sarebbe anche meglio.